Lucia De Blasi, Germania. Questa mattina, cari giurati, quando si è aperta la porta dell'ascensore e sono entrato, la Lucia mi ha visto e mi ha detto il giudice ha iniziato male. Senti Lucia, allora noi abbiamo un bel colpo d'occhio, vediamo il prima e vediamo adesso. Che cosa ci racconti? Hai poco tempo per convincerci? Allora, lei purtroppo non capisce l'italiano perché è tedesca, parla tedesco ma vive in Austria. Io ho scelto lei che è in viaggio, una signora che ho osservato durante la colazione, perché mi piaceva molto il suo viso in quanto ha delineamenti molto dolci nonostante la sua età. Soltanto che per me il look non andava bene perché secondo me con questi lineamenti dolci che ha, poteva essere ringiovanita. Appunto il mio intento era proprio quello di ringiovanirla, ho cercato almeno di ringiovanirla. Ci sei riuscita? Grazie. Hai fatto capelli e trucco? Io ho fatto il trucco ma i capelli gli ho dato io precisamente quello che doveva fare. Gli ho detto un po' asimmetrico. La possiamo vedere dietro? Se si può girare. I volumi li ha deciso un po' lui, però io non volevo fare troppo, volevo una serata tra amici, un casual, però con quel tocco di eleganza e finezza che ha una signora della sua età. L'abbigliamento, i colori, le forme, dove hai trovato? L'abbigliamento gliel'ho comprato io a Barcellona perché nel suo ormai non c'era niente che mi piaceva. Ah, prezzo. E quindi sono andata con la sua immagine in testa, sono andata in un negozio e gli ho comprati i vestiti. Senza di lei? Senza di lei ho indovinato tagli e giusto, è tutto. Brava. Ho preso, allora, anzitutto voglio dire quello che non mi piace, perché le scarpe per me, per la sua età, non mi piacciono, non mi piacciono molto i colori. Le avevi prese blu e forse non così lucide, meno lucide. Trovo sfizioso il punto di colore che poi lo leggiamo ancora anche nel pezzo coprispalla, poi magari la forma, il fatto che tutto sia fuori. Sì, ecco, e avrei messo, scusi se l'interrompo, anzitutto lo smalto, come le labbra, le mani, i piedi, perché non l'avevo, quindi non l'ho potuto mettere, però avrebbe dato quel tocco, secondo me, in più nell'abbigliamento. Io ti faccio i complimenti perché hai azzeccato il look, la taglia e tutto, e la sciarpa che tu hai preso, per lei che è un'estate, è adattissima. Sì, rispecchiava molto i colori perché non volevo neanche caricarla molto con gli accessori. A me piace molto la collana, guardate un po', perché questo tocco che ha messo così, talmente fine, talmente eleviante. C'è la semplicità in una persona, con un tocco di originalità o di finezza, comunque sempre essere fine e di classe, anche perché penso che nonostante magari una sia bella di un metro e ottanta, o abbia un fisico appunto da modella, se non sa portare un vestito o non sa camminare, perde tutta la sua bellezza. Sì, si è truccata bene, hai fatto proprio un bel lavoro. Buon lavoro. Ho cercato anche di farlo un po' più, ho fatto forse un fondotinta un po' più pesante per la fotografia, perché magari viene un po' più chiaro poi nella ripresa. Perfetto, grazie. Grazie mille. Complimenti. Grazie davvero.